Buon pomeriggio a tutti, grazie di aver accolto il nostro invito. Io farò un saluto, poi mi scuso con tutti voi, ma sono tenuta a rientrare in aula perché ci sono delle votazioni. Quindi ci tenevo però a essere qui per un breve saluto perché trovo questo incontro interessante, il tema della resilienza è un tema che ha tante letture e ci tenevo anche a dare il mio sostegno a questa iniziativa con una mia lettura di questo tema. Quindi ringrazio il questore Stefano D'Ambroso e la Ludovica Rossi Purini che è l'ideatrice del progetto Rebirth e Daniel Libeskin che con il suo documentario introdurrà il tema di questa giornata, ovvero la resilienza e la rinascita degli individui, dei gruppi sociali ma anche degli spazi fisici. Ecco saluto chiaramente tutti voi presenti, i relatori che offriranno la loro testimonianza e cerchiamo di vedere come questo tema si è sviluppato nei vari ambiti. Ecco resilienza è un termine utilizzato con sfumature molto diverse, ma il significato è più o meno sempre lo stesso, a seconda infatti dei contesti. In metallurgia, addirittura in metallurgia si parla di resilienza, cioè è la capacità di un metallo di resistere agli urti senza spezzarsi, resistere agli urti senza spezzarsi. Resilienza è come resistenza, resistenza ma non solo, quando si parla in particolare di esseri umani e infatti questo concetto lo ritroviamo nel significato opposto a quello di fragilità nel campo della psicologia, in cui la resilienza è studiata come la capacità di non piegarsi di fronte all'avversità, ma di riorganizzare positivamente la propria vita. Ecco questo incontro, come dicevo prima ai nostri ospiti, mi dà la possibilità anche di articolare un po' il concetto di resilienza come io l'ho conosciuto nei miei 25 anni di lavoro nelle agenzie delle Nazioni Unite. la resilienza delle donne rifugiate, la resilienza delle donne rifugiate che hanno dovuto scappare dalla guerra, che hanno dovuto lasciare tutto alle spalle e quello di sopravvivere tra privazioni estenti. Ecco queste sono donne solo all'apparenza più vulnerabili, solo all'apparenza perché fronteggiano le contrarietà della vita loro e quella dei propri figli proiettandola verso una dimensione positiva per se stesse ma anche per gli altri. Nelle guerre, durante la fuga e poi nei campi profughi hanno conservato la propria umanità senza cadere nella disperazione, senza cadere nel cinismo, ma dimostrandosi sempre solidali, generose e capaci di dividere quel poco che hanno. Ecco, nonostante tutto e contro ogni realistica previsione si sono rimboccate le maniche e veramente con una sopportazione coraggiosa ma anche una determinazione particolare, particolarmente forte, sono riuscite a sopperire ai bisogni loro e della loro comunità. Ecco, la loro forza, la forza di queste donne nasce proprio da questa sofferenza che si alimenta, cioè la sofferenza alimenta la forza di resistere, è dalla sofferenza che queste donne trovano la forza di resistere e di reagire. E sono le tante donne irachene, le tante donne afghane, somale, che ho incontrato nelle periferie di Damasco, come nei quartieri di Peshawar, che ho incontrato nel campo profughi più grande del mondo, 500.000 persone, immaginatevi, a Dadaab, nel nord del Kenya, 500.000 somali che sono lì da anni, 500.000, la terza città del Kenya, dopo Nairobi e Mombasa. Immaginatevi in Italia, abbiamo 67.000 rifugiati e sono sempre troppi. Ecco, io penso che dalla loro straordinaria capacità di affrontare le difficoltà ma anche di superarle e di rigenerarsi, trasformando quella condizione svantaggiata, terribile, in una opportunità di riscatto e di rinascita. Credo che da quella esperienza noi tutti oggi in tempo di crisi dobbiamo imparare molto, perché a volte noi pensiamo che tutto questo sia troppo, che non ce la faremo. Guardiamo la vita di queste donne, guardiamo il modo in cui affrontano la quotidianità, come affrontano le difficoltà e soprattutto come reagiscono alle difficoltà. Ecco, io credo che queste donne siano l'esempio tangibile di come anche dalle macerie, anche dalle guerre più spietate, sia possibile rinascere, rinascere e sperare nel futuro. Rebirth. Questo è il tema anche del nostro incontro. Allora vi dico una cosa, io sono tornata a Lampedusa, settimana fa era a Lampedusa, sono tornata a Lampedusa come presidente della Camera dei Deputati. Immaginatevi che cosa può essere stato per me questo ritorno a Lampedusa dopo aver lavorato in queste isole tanti anni. Ecco, è stato un viaggio veramente impegnativo dal punto di vista emotivo, nonostante io avessi assistito negli anni a decine e decine di naufragi, centinaia e centinaia di morti. Però ho visto proprio anche lì la resilienza, ho pensato a questo. Che cosa c'è di più resiliente di chi riesce a sopravvivere a un naufragio, di chi vede il proprio figlio andare a fondo davanti agli occhi e non poterlo aiutare? Che cosa c'è di più resiliente del trovarsi in un hangar di un aeroporto con centinaia di tombe e non sapere dove sta tua figlia, su quale tomba piangere? Perché non lo sai. Ma lo accetti, lo accetti e non fai questione. Quanti di noi, io vi chiedo, avrebbero accettato di non sapere in quale tomba c'era il proprio figlio, il proprio marito? Quanti di noi avrebbero accettato questo? Allora io ho visto un dolore intenso, ma anche molto dignitoso, molto sommesso, ma c'era tutto il dolore del mondo in quel non chiedere, non osare farlo perché si aveva l'impressione di disturbare tutto il dolore del mondo. E allora penso che questo sia un esempio incredibile di resistenza e di resilienza. Ecco, volevo chiudere questo breve saluto con una frase che mi ha colpito molto. È l'espressione utilizzata da Boris Chirurnik, un neuropsichiatra francese, che descrive la resilienza come l'azione di risalire su una barca rovesciata. Risalire su una barca rovesciata. E allora io penso che questa definizione restituisca al meglio il significato profondo della resilienza, specialmente in questi giorni. Grazie.